Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Ale, come sempre vedi a seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Italia per restare sempre a giocare. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo inoltre di attivare la campanina per non perdervi ogni mio video. Oggi farò video speciale, la top 10 delle opere di Gonagai, non esclusivamente Gonagai. Ho letto 10 opere, quindi sono le 10 che ho letto, ci faccio classifica, quindi altre opere che magari mancano perché non corrono le orette. Magari fra qualche anno le aggiorno questa classifica, quindi se vi fa piacere condividetela perché ci tengo davvero molto. Posizione numero 10 con The Bird, 8,50€, un po' un'imitazione del suo Devilman, sempre solite tematiche. Creature da incubo contro l'umanità, anche se in questo caso sono dei soldati geneticamente modificati con parti animali. Uno in particolare si ribella a questa cosa, un po' come in Zetman, devo dire, e va e cerca comunque, scappa e cerca comunque di salvare la sua vita e di salvare una ragazza. Ma è una ragazza abbastanza semplice, ecco, solo due volumi, quindi non è che ci sia granché da dire. Ci ho già fatto comunque il video di tutti di questi, ci ho fatto la playlist di Gonagai, quindi vi invito caldamente a poi finire i video di riguardarvi tutta la mia playlist di Gonagai, che lì ci trova tutto, tutti i video che parlo ci trovano lì. Ogni tanto compariranno delle schede in alto a destra di alcuni video, ma non si possono metterli tutti, quindi... se c'è un video che magari non ho messo la scheda che vi interessava sapere, andate, potete trovarla qua. Posizione numero 9 per Jig, Jig robot d'acciaio, questa edizione non è la prima, è dopo, questa è un'altra edizione. Robottoni, mecha, famosissimo, Jig in Italia. Gonagai è stato conosciuto principalmente per questo in Italia, Devilman è arrivato dopo, obiettivamente grazie agli anime degli anni 70 di questi robottoni, di questi mecha, che devono salvare la Terra da minacce o alieni o demoniache, ecco. E quindi, ecco, sì carino, ma non mi ha entusiasmato più di tanto la mia questa edizione, ma magari quella vecchia non fosse mi entusiasmato di più, però io sto a quello che ho letto, quindi questa edizione sì carina, ma niente di che, ci sono altre fatte molto meglio, secondo me. Posizione numero 7 per un manga tragicomico, omoristico, o moraikun, edizione della Ikari, tutto il cofanetto, 29,70€, 9,90€ l'uno. Ci ho fatto, tra l'altro, il video recentemente, di questo ragazzo, di questo barbone, questo cattone, che in realtà lui è buono come il pane, nonostante sia sporco, e quando va a scuola, soprattutto i professori lo vedono di cattivo occhio, perché comunque i suoi germi sono nocivi per gli altri esseri umani che le portano a morte, però ha questa contrapposizione che, non giudicare dall'abito, bisogna conoscere le persone perché lui, ok, è sporco, si veste male, però è buono come il pane, mentre chi magari si veste bene, è sempre elegante, però è marcio dentro, e quindi invita a non giudicare comunque dall'apparenza. E' un manga tragicomico che davvero fa vedere le divisioni societarie del Giappone, un po' prende in giro i stessi giapponesi su questa paura dello sporco che hanno in città dentro di sé. Posizione numero 6 per La Scuola Senza Pudore, una delle sue prime opere, 9,90€ di J-pop, molto irriverente, ha dato parecchio scandalo, perché oltre a essere comico, ma è anche molto spinto, molto echi, molto sensuale, scene di nudo, scene di sesso spinte no, però molto, diciamo, per quegli anni, fine anni 60, 69, 70, era molto hard, e ha dato parecchio scalpore in Giappone, ci hanno fatto pure l'anime, e dopo questo, o meglio, mentre stava serializzando questo, poi ha iniziato a fare Devilman. Proprio gli esordi, sia questo che Umarai Kun, che questo del 71, sono proprio più o meno gli esordi di Gonagai, però queste due opere sono un Gonagai diverso, che non si è abituato a vedere, almeno in Italia non lo associa a queste opere, lo associa a Devilman, ai demoni, ai robot, ma non ha queste opere comiche, che sono l'inizio, però sono non solo comiche, ma parecchio spinte questo, anche qua una denuncia, a un certo punto alla guerra, all'orrore della guerra, ma questo ne parleremo meglio più avanti, con un'opera in particolare. Posizione numero... 6, scusate, quella è la prima era la 7, posizione numero 6, questa, scusate, Mazinga Z, altro manga, Tema Robot, questo della Dint, 4,90€, questo forse è quello, ancora più famoso, proprio il primo robottone che fa, bei disegni, devo dire di questo, questo mi è piaciuto di più, molto più completo, anche se il finale è aperto, è un finale aperto, questo di questa edizione, mi è piaciuto di più, di Jig, e l'ho apprezzato, ci sono i Kaiju, se avete visto, Power Ranger, li assumiglierà parecchio, tra l'altro, i Power Ranger derivano da, Super Sentai, che è un manga di Shotaro Shinomori, contemporaneo di questo manga, e Shotaro Shinomori, Shotaro Shinomori, è il maestro di Gonagai, quindi, è tutto un cerchio, che si chiude in effetti, in quegli anni lì, comunque questo costava, 4,90€, entriamo nella top 5, posizione 5, con la Divina Commedia, di Gonagai, questo è la Onnibus, 29,90€, cartonata, edizioni di J-pop, ovviamente la storia, è la Divina Commedia di Dante, però, con i disegni che fa, molto molto adatti, con il carattere, che vuole dare, allo stesso Dante, molto particolare, molto intenso, anche qui, è una battaglia, tra bene e male, tra demoni, eccetera, come ha detto, più volte, con Agai, la Divina Commedia, l'ho ispirato, nelle sue opere, in particolare, in Maudante, che è precedente, a Devilman, da cui Maudante, poi tratto ispirazione, per Devilman, quindi grazie a Divina Commedia, sì, c'è Devilman, e tutta la sua epopea, di questi generi, quindi, grazie Dante Alighieri, passiamo, posizione numero 4, per Sutendoji, edito da J-pop, 9,90€, anche qua, tema, sempre battaglia, bene e contro il male, qua, demoni che vengono, da un'altra dimensione, poteri esper, chi più ne ha, più ne metta, molto molto intenso, molto molto forti, questi manga, che verranno più in avanti, tutti questi, scene, molto cruente, molto forti, e davvero, è proprio, il Gonagai, che tutti conoscono, in Italia, ecco, che si associa, oltre a, a, i mecha, però, magari quella generazione, più antecedente, antecedente, la mia, però, la mia, quella dopo, quando i chichi, gonagai, pensano a questi, genere di manga, coi, coi mostri, coi, coi demoni, eccetera, eccetera, battaglia tra bene e male, e spesso, lo vedremo, con la prima, con la prima, manga in classifica, non sai bene, qual è il bene, qual è il male, e davvero, ti fa confondere, Gonagai, posizione, numero 3, per un manga, molto particolare, cioè, Gekiman, l'origine di Gonagai, cioè, parla, come ho già accennato, di, la scuola senza pudore, un murai kun, come è nato, Devilman, maudante, quindi, quindi, viene spiegato, esattamente, filo per segno, l'anime che andava in onda, che poi, dopo l'anime, è cominciato a scrivere, Devilman, perché prima è nato, l'anime di Devilman, contemporaneamente, le sue opere, che ho già accennato, che faceva, come è riuscito, a mandarla avanti, insieme, qual è deciso, di stoppare, per quale motivo, perché faceva, cinque opere insieme, ed è davvero difficile, fare cinque opere insieme, però qua spiega, molto bene, la storia, la genesi di Devilman, e il significato, di Devilman, qua davvero, te lo spiega bene, questa edizione di J-POP, prezzo 11,90 euro, all'uno, e qua, parla proprio dell'orrore, della guerra, cioè, Gunagai, tutti i suomanga, che fa, è da modo, a chi li legge, ai lettori, di odiare la guerra, di dare un segnale forte, al governo giapponese, che è sempre stato, un popolo bellicoso, il governo, che voleva espandersi, di occhio, perché la guerra è brutta, giovani, non fidatevi del governo, quando diceva le parole, che è una morte onorevole, da eroi, da samurai, ma la guerra è terribile, tremenda, e non serve a nulla, quindi, non fidatevi, dei militari, che vi dicono, di aruolarvi, perché, serve a seguire il paese, non fidatevi, questo insegnamento profondo, che vuole dare, Gonagai, con i suoi manga, all'orrore della guerra, in tutte le sue forme sfaccettature, e passiamo, per l'appunto, forse, al manga più violento, che ha fatto Gonagai, secondo me, seconda posizione, meditatissima, per Violent Jack, prezzo 9,90 euro, la sua opera più lunga, la più violenta, è il seguito, letteralmente, di Devilman, e, wow, molto forte, cruenta, cioè, davvero, è quasi un antecedente, di Berserk, probabilmente, Kentaro Miura, qualcosa, ha preso da Berserk, ma probabilmente, anche, Buronson, per scrivere, Kenny Guerrero, ha tratto qualche ispirazione, da Violent Jack, soprattutto, come ambientazione, post-apocalittica, è davvero, un manga forte, terremoto, dal canto, che, stermina tutta, quella regione del canto, ci sono pochi sopravvissuti, lui vive la legge, è il più forte, non c'è una vera legge, giapponese, qui, chi è più forte, può fare quello che vuoi, stupri, omicidi, furti, sembra proprio, Kenny Guerrero, anche se vuole essere il contatto, Kenny Guerrero, che sembra parecchio, Violent Jack, in questo mondo, post-apocalittico, dove vige, l'unica legge del più forte, davvero, soprattutto, gli ultimi volumi, ti fa capire, il collegamento, che ha con Debime, e resti scioccato, ma davvero scioccato, perché, sembra un'opera diversa, da Debime, ma gli ultimi volumi, ti fa capire, che non è così, e resti davvero scioccato, cioè, perlomeno, solo è stato scioccato, ora passiamo, prea posizione, ormai, l'ho citato continuamente, ma è scontato, perché è il manga, più conosciuto, più famoso, e sto parlando ovviamente, di Deviman, di Go Nagai, questa edizione di J-Po, 7,50€, c'è anche la Omnibus, però ho questa edizione, a 7,50€, è qua che dire, la perfetta, divisione, tra bene e male, guerra, tra bene e male, che non c'è mai, un vero bene, un vero male, mai una scala di grigi, e il bene, a un certo punto, può diventare il male, e viceversa, sta al lettore, decidere, chi sia davvero il buono, chi sia davvero il cattivo, se il genere umano, in realtà, è il vero male, e non i demoni, che vivevano anticamente, in passato, questa amicizia, che si crea tra i due protagonisti, che viene in qualche modo, oltre che essere legata, al destino, ma viene divisa, dallo stesso destino, e quindi davvero, ti dà molto, David Man, ma ha dato molto, ma ha dato molto, a chiunque lo legga, David Man, ed è un manga, che consiglio di leggere, a tutti, perché davvero, ti insegna parecchio, su il bene, e il male, e come ha detto, in Gekiman, è un insegnamento, è uno sprono, a non commettere, altre guerre, davvero, molto bello, fatemi sapere, qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, a mia classifica, scrivetemi, qui sotto la vostra, se ovviamente, avete letto, tutte le opere, oppure se c'è qualcuno, che non lo conoscevate, comunque, scrivetemi, qui sotto nei commenti, di chiunque, altra. Grazie a tutti.